buongiorno a tutti sono tornata a farmi vedere questo casino che sentite sotto la sempre la mia macchina del pane che sta facendo appunto il pane e ho deciso come potete vedere dalla dalla schermata di portare dei sims 4 perché perché io ho sempre amato dei sims 4 sempre e di conseguenza volevo vedere un po come andava sul canale visto che vedo che quello che va per la maggiore è appunto dreamlight valley che parla appunto di vita simulata diciamo così quindi proviamo dei sims allora io vi dico che parto in partenza parto in partenza specifico in partenza che userò la mod dei soldi il trucco dei soldi sicuramente sicuramente perché non mi va di sclerare e poi ho qualche mod installata che vi dirò poi successivamente come si chiamano perché al momento non me lo ricordo io andrei a subito a creare la simmina perché sono sincera non ho mai cominciato una storia sim con una coppia io ho sempre cominciato con una simmina da sola quindi andiamo a fare la nostra simmina che non è questa che vedete perché questa è una partita mia che ho fatto a parte ma ne faremo un'altra nuova allora ti piacerebbe creare la mia storia no la facciamo poi così perché la prima sim l'ho creata così ovviamente mi è uscito un maschio ma noi vogliamo una sesso femminile corporatura femminile preferenza abbigliamento femminile potrà entrare in gravidanza potrà produrre latte si può usare il gabinetto in piedi no va bene orientamento sessuale io lo farei più simile a me quindi io sono etero quindi di conseguenza è attratto da uomini il sim stai esplorando romanticamente si a questo sim interessa fare fichi fichi con uomini piacerebbe farlo alternativo ma per come come prima partita facciamola così fatto allora scegliamo innanzitutto un giorno una giovane adulta anche se io sono una vecchia adulta scegliamo una giovane adulta la camminata diciamo no no ecco no ma una camminata normale questa mi sembra abbastanza normale ok mi dispiace per il rumore della macchina del pane però kit di sopravvivenza mode on allora innanzitutto scegliamo un'aspirazione conoscenza maga del computer sì rinascimentale cervello nerd cibo no amore atletica creatività natura famiglia devi devianza ricchezza c'è la medicina dentro no fa villa nella villa no a me non interessa diventare ricca ma interessa avere una vita normale natura collezionista famiglia no creatività autrice pittrice genio musicale conoscenza non mi non mi appare non mi appare medicina però facciamo conoscenza conoscenza magari computer no cervello nerd oppure molte va bene questa dai veloce ad imparare ok cosa gradisce cosa non gradisce colore a me personalmente piacciono il nero il rosa il viola odio il verde il rosso non mi marrone no anzi sì rosso sì grigio no giallo sì e bianco sì arancio sì e anche blu tutti praticamente ok genere musicale sì 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 non so cosa sia ma mettiamo di sì classica sicca un tattoo a reale sì da atmosfera elettronica invernale radio bambini vabbè sì mettiamole tutte queste perché non si sa mai che un domani si diventa madre qua dentro troppo alto ecco era troppo alto ok e poi attività mi piace la chitarra la comicità cottura al forno fotografia forma fisica cucina giardinaggio malizia li mettiamo tutti li mettiamo tutti la pesca non mi piace sinceramente ecco mixologia mistilisti ma si mettiamo mi piace a tutti dai perché almeno punto croce ok poi qua mettiamo attiva allegra genio creativa romantica sicurano buffa a tre ne posso scegliere quindi buffa no a questo punto mettiamo creativa c ok a ci sono anche qua amante dell'arte perfezionista smanettona 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 vongustaia vongustaia dai perché smanettona vediamo vongustaia amante dei cani ci sono anche amante dei gatti però non c'è amante degli animali appassionata via ecco perfetto ok allora passiamo a fare i capelli che metterei come quelli dell'altra simmina cosa sono questi ah li ho appena scaricati vediamo come sono oh questo mi piace però mi piace molto non c'entra una mazza con me però mi piace molto questo no questo fa tanti anni 80 ma non mi piace granché in fondo questa questa si mi piace si ok viso ovviamente andiamo sul neutro del mio colore cercherò di farmi più simile a me tranne i capelli che sto tentando di far crescere ma so già che li taglierò quelle labbra non sono le mie ovviamente quindi togliamo un attimo gli occhiali perché devo sistemare gli occhi sistemiamo gli occhi li facciamo un po' più no no sì 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 occhi va bene questo colore verde marcino questo colore esatto perfetto poi i capelli li abbiamo fatti i capelli non li vogliamo accessori orecchini sì perché io li porto no per forza femminile però mi piacciono tanto questi così come sono? ma sì perfetto vedete? sì 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 mi piace trucco non sembra anzi in questo momento no però io mi trucco molto spesso mi piace farlo però io mi trucco di solito molto colorato ma qua eviterei non so perché no beh 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 però questo lo possiamo mettere lì al posto di metterlo verde no brutto qui si può aumentare no cosa mi stai facendo? la rosa ok dai va bene questo no? aspetta accessori no trucco trucco eyeliner ne avevo scaricato ecco qua ne ho scaricato uno molto bello guance semplici guance che troppo arancio però questo è troppo forte questo 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 sì labbra metto sempre il mio colore preferito che è questo madonna che labbra tour su biso no sistemiamo queste labbra sono troppo grandi forse queste perché le mie sono un po' strane effettivamente queste mi piacciono già di più sì queste dai poi occhiali abbiamo questi? mi piacciono un sacco però o neri o blu come li ho io ma questi qua mi piacciono un sacco poi collane ci mettiamo una collanina togliamo femminile perché non è questo com'è? no non mi piace questa? questa già di più orecchini li abbiamo messi mani mi sembra che si possano modificare anche le mani le mani aspetta le mani aspetta le mani no? come no? vabbè sì si poteva adesso ci scegliamo i vestiti che lo farò io off camera e poi ve li faccio vedere tutti quindi innanzitutto lei è così i capelli sono perfetti questo colore e vi faccio vedere i look invernale due pezzi e invernale un pezzo clima caldo un pezzo solo no? sono due pezzi questi sì non ho fatto quello un pezzo solo vabbè lo faccio subito giusto per fare come completezza no questo qua mi piace molto sì questo mi piace davvero molto in no sì no questo mi sa che era quello dell'inizio ok poi aspetta costume da bagno ho messo solo questo e ho tolto gli occhiali festa questo qua mi piace un sacco non volevo vestirmi da gnomo da notte come mi vesto di solito io sportivo corpo intero e due pezzi no corpo intero e due pezzi aspetta non ho messo gli occhiali qua aspetta un momento perché se non metto gli occhiali qua poi mi quando faccio sport mi cado cado perfetto ok ci sta questo qua l'ho scaricato da Pinterest questo completo questo qua formale così e ha l'ho eliminato o porcaccia avevo fatto il doppio porca miseria to ma no parte sopra questo 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 e estivo uno e due e ci siamo ora manca il nome io la chiamerei celeste celeste aspetta no celeste no si si celeste cognome che mi che mi frega con due m con due m e direi che possiamo dare il via alla semina allora clicca su se ah no aspetta 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 volevo fare un gattino si può fare un vicino sì un gattino o un cagnolino volevo fare aggiungi un gatto oh carino allora volevo un gatto nero si nero si corpo normale un gatto normale una coda voglio no la coda va bene un manto va benissimo così no cosa è sta roba no dipingi cosa no 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 che dipingi no acqua mi fa sedere no 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 non voglio dipingere il gatto dai non posso scegliere il colore agli occhi forma della testa allungata sembra stranunato questo gatto le orecchie oh amore si il nasino così gli occhietti si azzurri modelli modelli ti dipingi no madonna aspetta un attimo non si può scegliere un attimino come come fare il corpo più magro no sembra palestrato sembra palestrato questo gatto va bene ah qui via un po' per fare il gatto obeso subito magari no no adesso adesso ci arriviamo ok ah bene spirito libero affettuoso e ah 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 loquace no avevo già di là un gatto loquace volubile no viziato no predatore predatore meo ok e lo chiamiamo Yoda no si Yoda che me frega ok ok uno un gatto solo non anche un cagnolino perfetto ok via c'è una foto che la metto come copertina olè perfetto e adesso andiamo a scegliere il lotto perché ci sono dei nuovi lotti qui allora innanzitutto è primavera anzi no facciamo che sia estate perché è estate adesso in questo momento da me e quindi facciamo l'estate ora ci sono dei nuovi lotti io di là ho messo qua vi dico subito che la casa la sceglierò da sola così fondi si possono fare già qua sì allora ma non si possono no non li aumenta li aumenta solo in giochi forse non devo mettere aspetta no ok lo metto in gioco adesso la faccio trasferire in un piccolo lotto e poi e poi vediamo di lotto non occupato eh torrentello e lo so adesso poi ci trasferiamo subito aumentiamo i soldi e poi ci trasferiamo subito ok benvenuto ok abbiamo anche il la mod private practice allora ok lo so che ci sono altri metodi per aumentare molto di più ma in questo momento mi ricordo questo nome ok allora facciamo subito una cosa trasferisci l'unità familiare anche perché questo è è il lotto che ho scelto anche con l'altra credo è proprio un buco questo non ci sta un pc non ci sta niente scegliamo una bella casetta ne scegliamo una bella 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 allora qui ci sono delle belle case ma qua ci sono gli alberghini giustamente residenziale tre stanze da letto però a me piaceva di là dove c'erano le mucche sì qua ci sono tutti i quelli che ancora non ho comprato io ero andata qua mi pare forse sì vediamo se c'è la mia unità l'altra credo no non era qua no mi sa di no e qua c'è solo questa testa di segugio questo è il lotto di credo per il cane gatto che sia qui forse sì allora residenziale è occupata no Watson io dove sono l'altra l'altra mia allora non posso vivere nei lotti non residenziale allora fammi vedere dai residenziale sì accogliente credo che io sia qua in alto no qua forse no non so dove sono dove l'altra l'altra mia qua è la cosa ok ma guardiamo anche gli altri però intanto ricordiamoci qua prima cosa che facciamo a caso tuo perché? perché ho troppo pochi fondi? non credo me ne sono aumentati così pochi nel deserto non mi piacciono ma neanche qua mi piacciono qua bisogna costruirli e basta no andiamo qua andiamo qua e prendiamo era questo? era questo? questo credo mi ispiri accogliente volpi selvatici vita semplice invece qui ah no qua c'è gente non posso cacciarli via ma anche qua c'è gente vabbè mi trasferisco no spratta sì voglio spratta guardarla è mio mantengo i mobili certo vediamo vediamo qui abbiamo ho le galline che non ho idea di come metterci le galline ma lo impareremo perché ho appena preso il lotto io ripeto giocavo con The Sims 3 e vabbè penso che non sia cambiato molto ok il gatto ha già fatto la sua entrata mi piace molto molto rostitino carino qua ci sono gli appendi abiti qua c'è già un pc che magari cambierò non lo so vediamo piano di sopra abbiamo la stanza da letto un altro bagno e basta piccolina secondo me è un po' piccolina per i miei gusti anche perché fa vedere se lì c'è un tetto si è un tetto è un po' piccina però diciamo che per il momento ci va bene è già al computer cioè peggio di me peggio di me eh cosa è successo paura degli animali ci sono animali veramente impaviti nemmeno Yoda ciascun animale ha le proprie paure quindi osserva i tuoi per scoprire cosa li spaventa dov'è Yoda? ma innanzitutto dovrei mettere una porticina perché mi piace molto questa casetta molto bella però devo mettere una porticina per il povero Yoda perché sennò come esce? cioè lui esce lo stesso immagino però porticina per animali non ce le abbiamo le porticine per animali porti piccole credo siano queste porta per cani animali ciaccia si credo che l'unica sia questa cani animali e la mettiamo verdina quella lì perché? cosa interseca fuori? fa vedere ah ee 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 nella porta nella porta non la posso giustamente mettere e quindi niente come ho detto non c'è un'altra uscita dietro? no è un po' piccola sta casa per i miei gusti è un po' piccina non posso metterci beh posso aggiungerci delle stanze volendo eh perché beh spostando un po' di roba ci piace questa casetta? a me si sinceramente per il momento però c'è poco e niente insomma metterei la lettiera del gatto però Celeste un appassionato degli animali gli appassionati animali sono felici di interagire con gli animali e sono più bravi a prendersene cura si sentono tristi se non interagiscono con un animale per un po' prendiamo una lettiera per gatti perché giustamente ti metti in una casa nuova hai bisogno cose lettiera lettiera senza paletta io di là ho messo queste c'è scritto che è autopulente ma non è autopulente il bagno è piccolo però porca miseria il bagno è davvero troppo piccolo e poi la lavatrice così dove la metto? beh è piccola sta casa è minuscola come si fa? si fa che ci si trasferisce si fa che si si trasferisce per forza perché è piccolina carina no dai voglio voglio la sfida voglio la sfida ma comunque ho sempre bisogno di una lettiera per gatto in ogni caso allora io comunque ho bisogno di una lettiera per gatti non posso mettermi la lettiera in cucina o cioè il posto più sensato è il bagno cosa sto facendo? il posto più sensato è il bagno però potrei metterla qua visto che questo lo possiamo rispostare qua potrei metterla lì lettiera del signor orinatoi vabbè lettiere basta proviamo si qua me la fa mettere quindi c'è anche questa? si ok la spostiamo un po' è certo che sotto i panni la lettiera che schifo dio mio no no e quella del signor orinatoi ci sta qua? dai io mio no dai non posso mettermi la lettiera sotto i panni eh porcaccia miseria non posso metterla le che che schifo allora metto questa chiusa eh adesso mentre il cibo beh il cibo lo posso mettere in cucina o comunque da qualsiasi altra parte quindi eh dunque come si chiama? dove vai? no ho spostato la segna allora mi sa che mi trasferirò molto presto allora mettiamo un tiragraffi così lo so per questo con la cuccia eh c'è troppo poco spazio qua lo spazio ecco perché quando io facevo The Sims facevo tutte case quadrate fondamentalmente ciotola ho sempre messo questa qua perché mi dà la possibilità di dargli da mangiare senza dover se ci sta vicino ai libri qua mettiamola qua ok per ora va bene così vediamo di trovarci un lavoro e poi magari modificare la casa riempiamo cazzo cammini mi sono dimenticata di cambiarti la camminata non ci credo no non è vero l'avevamo cambiata la camminata vabbè cammini come una cretina allora per aggiornare i gli elettrodomestici o dobbiamo ripararli oppure comprare le cose cosa fai questa fa ginnassica vabbè allora di cosa hai bisogno innanzitutto niente lavori non abbiamo dei lavori iniziamo una carriera vediamo che cosa ci ci propone ci propongono gli annunci lavorativi ok il gatto esce da solo allora detective medico ecco a me piacerebbe fare il medico e farò il medico stiamo assumendo medico tirocinante va bene celeste lavora ora come medico tirocinante presso il centro benessere mi sento giù inizierà lunedì alle 7 che giorno è oggi? domenica va bene concentrata trascorre un giorno atto nel posto di lavoro vabbè questo è chiaro devo prima fare attive messaggi per seguire sì quartiere ti dal beme petta arrivo salve ah stai già andando ok comitato di benvenuto ok va bene salve anche a lei prego 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 non ho niente da offrire perché sono appena arrivata la casa è piccola quindi non rompete le palle e invitiamoli ad entrare ma soprattutto dobbiamo fare una cosa importantissima ragazzi importantissima perché se noi non blocchiamo il computer se noi non blocchiamo il computer tutti tranne celeste i vicini si mettono al computer non c'è niente da fare l'altro giorno non lo trovavo più era il mio computer no 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 si bloccano si bloccano dai chiacchieriamo un po' invita i vicini ad entrare prego 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 però non ho niente da offrirvi perché potrei fare il caffè diamine a questa cosa oh signore potrei di brocca di cosa eh di eh dov'è il caffè non c'è il caffè e tè al ginseng dai prepara un bel tè al ginseng senza incendiare tutto visto che non abbiamo nessuna abilità bella sta casetta però mi piace un sacco averla io per me è meravigliosa però su dei sim ci vuole spazio anche a casa mia però ad esempio quella pianta a me non piace ma in ogni caso cosa cosa mi hai portato di buono eeeh prendiamone un pezzo dopo aver fatto tutte non te la devi bere da sola comunque prendetevi pure la bevanga vediamo che buona allora tu vediamo cosa ti posso dire e poi allora comincio a parlare con te se no ti alzi parla da sola questa ringrazia per la presenza anche lui voglio ringraziare per la presenza ringrazia per la presenza ehm soddisfatta è quasi finito il comitato di benvenuto penso ehm soddisfatta una volpe c'è una volpe là fuori ciao olpina devo capire devo capire come allora innanzitutto chiediamo eeeh ma si eeeh chiediamo a lui eeeh altre scelte amichevole eeeh non c'è non c'è appare hobby no chiacchiere sarà conoscere ok eeeh eeeh andiamo avanti a vedere che cosa fa cosa fa sto gatto dove dove vai gatto non buttarla giù dove vai gatto ma guardateeeh ma guardateeeh ma guardateeeh sto gatto dove va sei proprio in eeeh mao mao cosa cosa stai facendo non mi vomitare il pelo adesso ma sto gatto cosa cosa ha il gatto si sta facendo le unghie sul divano gatto eeeh dai prendi bicchiere per dargli la romanzina sui graffi dili qualcosa sto gatto eeeh 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 non graffiare Yoda non graffiare che caspita e poi gli fai no non chiedo se è single non mi interessa no era musica retro ascolta altre scelte eeeh 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 ecco qua si adesso vai in bagno però non ho capito perché ti sei seduta di andare in bagno te la fai addosso bene credo che sia ora di andare ci vediamo e grazie dell'ospitalità va bene dai vai in bagno su vai in bagno alzati ok la musica c'è dai vai 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 in bagno su come quasi tutti gli animali Yoda può rimanere estremamente ossessionato dagli oggetti in giro per la casa tieni d'occhio i tuoi compagni i tuoi compagni però non ho fatto in tempo a leggere perché si è ossessionato dal frigorifero quel gatto andiamo a fare jogging vediamo cosa vuol dire andare a fare jogging su lei stessa per andare a fare jogging un coniglio oddio abbiamo un ognomo socializza accarezza non so se mi fa accarezzare il coniglio penso di sì perché si è fermato il coniglio ciao coniglio è arrabbiatissimo perché sei arrabbiatissimo io da un regalo cosa fa sì ma non sono io questa io non mi metto lì per terra a fare riflessioni vabbè comunque vuoi andare a fare giochi vai a fare giochi ah ecco vai corri torna presto eh intanto vediamo cosa c'è da fare nel calendario allora eh medico 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 qua abbiamo il festival la fiera dei polli la fiera dei polli leggi il volantino della fiera gara dei polli acquista articoli originali gara delle uova portatuomini ok dovremmo fare quella cosa che adesso non mi ricordo come si fa per togliere il lavoro non mi ricordo come si fa ma lo scoprirò cioè ok perché mi dici che non posso metterlo qua cosa c'è qua che viva uno specchio non posso neanche metterlo qua perché c'è la porta ma lo metto qua ok poi lo sposto ho deciso che ci trasferiamo nella prossima puntata perché è piccola è troppo piccola sta già per non trovare la cuccia di un gatto devi andare a lavorare devi andare svegliati che devi andare a lavorare e non mi interessa devi andare a cesso devi svegliarti prima non devi andare a lavorare alle sette corri è il tuo primo giorno muoviti 15 giorni solo per scendere ok ragazzi celeste si trova al lavoro e noi terminiamo qua l'episodio e vediamo un po' come va la prossima volta vi saluto vi mando un bacio ci vediamo al prossimo video ciao ciao